Sì, non c'è il bar, non c'è il bar. aia 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 Grazie. 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 Ci sta facendo ricordare che lo stiamo trattando troppo bene. Stai facendo... Nudo! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ma io non sono... A me le secondi mi mettono in... E' un tremendo imbarazzo. Quali cose quali? Ci mettono 3,11. Dimmi dove? Dimmi dove? Cioè... Quindi non ti imbarazzo. Facciamo da un bacio delle donne. Si impegniamo! Va! 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 Ci sono più passione di una volta! Lui continua a guardarmi senza dire niente Lei Scusate ragazzi Non ce lo fate Non ce lo fate Come no? Facciamo le 6 ore E ne fanno 2 per una Un saltarello così però Adesso no Allora parla per me Parla per me Adesso è buono Adesso ha un po' di attenzione qua Ed è uno Sì Adesso è una via guarda che ho sentito venite con le canale autistiche si esprime per un lupo eeeh 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 grazie scusa chi tá sabia ma guarda che mi street chianta ieri le petti sulla hai fatto che non parte non canta un po' de dentro e sta custo ma noi vogliamo sapere che noi vogliamo dal maestro Peppe Ghiacciolo e chiunque si unirà a lui una cicere nella stavolta però parlata da con attuali что m